Sai da dove deriva l'espressione auguri e figli maschi? Scopriamolo insieme. Questa espressione, legata agli stereotipi di genere e un contesto prettamente maschilista, è un modo di fare complimenti in occasione di matrimonio o nascite. L'origine li sale ai tempi in cui la nascita di un figlio maschio era particolarmente desiderata, per ragioni sociali, economiche e culturali. Tradizionalmente solo i figli maschi potevano portare avanti il cognome della famiglia e avere un erede maschio era quindi visto come essenziale per la continuità della stirpe. Inoltre, in molte società agricole, quando i campi si coltivavano a mano con poche attrezzi disponibili, il maschio era visto come il sesso forte. I figli maschi erano preferiti perché potevano lavorare nei campi e occuparsi dei lavori più faticosi, essendo una risorsa economica. Le fanciulle rimanevano a casa aiutando la madre nelle faccende domestiche e raggiunta l'età del matrimonio dovevano sposarsi e assicurare al marito figli sani e forti, possibilmente maschi. Nelle famiglie nobili, per sposarsi, dovevano assicurare una dota al marito, altrimenti il loro destino era al convento. E dettolo alla monaca di Monza. Oggi l'espressione è utilizzata con una connotazione più scherzosa, anche se mantiene ancora il richiamo alle tradizioni passate. Un tempo la società era matriarcale. Il cambiamento dal matriarcato al patriarcato ha sostituito al mito della mia madre quello di Dio padre. Prese il sopravvento l'elemento maschile, mentre la donna venne marginata, assumendolo sempre più ruoli secondari. Fu ad esempio esclusa dal sacerdozio nel cristianesimo o dall'iniziazione in massoneria. Tanto che per riscattarsi da tale marginazione la donna ha acquisito qualità e attributi maschili, dimenticando che le sue prerogative migliori sono le sue capacità intellettive, intuitive e sentimentali. Spesso nel comune modo di pensare, per celeste si allude però a qualcosa di superiore, positivo, alto, spirituale, e per terrestre a qualcosa invece di inferiore, negativo, basso, materiale. Nella nostra società associamo alle cose alte pensieri positivi. Ne sono le reprova le comuni espressioni di alta moda, alta società, alti ideali, essere all'altezza, grazie al cielo, viceversa alle cose legate alla terra. Associamo spesso pensieri negativi, come nelle espressioni essere terra-terra, bassezza, bassi fondi, colpo basso, bassi estinti.